Più di 300 os nella ASL, uno solo in attesa di chiamata e quegli assunti hanno aspettato più del dovuto. Il consigliere regionale dei 5 Stelle, Giorgio Fedele, torna sulle assunzioni. Bene lo scorrimento di gradatoria che dovrebbe portare all'assunzione di altri operatori sociosanitari alla ASL. Per il pentastellato politicamente però c'è mistificazione, perché chiunque ha seguito la vicenda ricorderà come la Veri oppose resistenza alle sue richieste. Ad un anno dalle proteste si è arrivate a 190 operatori assunti e questa per Fedele è la verità. Tuttavia la faccenda non finisce qui, perché Fedele è stato costretto a riportare la questione in consiglio, perché il centrodestra si disinteressa nei confronti di chi ha vinto il concorso ormai vecchio di 4 anni e che è ancora nell'oblio. Una prima parte di donne sono stati assunti, ne restano fuori più di 300. Il bando dopo 4 anni non si è concluso, la ASL invece si era impegnata ad assumere 50 os al mese a partire d'aprile 2023. Oggi siamo dovuti tornare a parlare, a denunciare della situazione, perché la ASL, nonostante le promesse fatte e ribadite da inizio del 2023, non ha proceduto con le assunzioni. La ASL stessa aveva dichiarato di poter assumere un numero di 50 unità al mese. Ad oggi saremmo dovuti arrivare almeno a 400 unità assunte, invece siamo fermati ad 85. Questo è inammissibile sia da un punto di vista del servizio sanitario. Abbiamo una forte carenza di personale all'interno dei nostri ospedali e un eccessivo, ingiustificato ricorso al lavoro interinare e flessibile. E dall'altro lato la Regione Abruzzo e l'ASL 1 stanno ancora oggi ledendo la dignità dei lavoratori, di tutti quegli operatori sociosanitari che hanno vinto un concorso e che sono risultati idoni e ingraudatori. Ad oggi l'ASL avrebbe dovuto assumerne 315. Io sono felicissimo della notizia che l'ASL procederà all'assunzione di 100 ulteriori unità. Ne mancano però ancora almeno 215. I numeri e il fabbisogno ci sono. Parliamo di un fabbisogno di circa 200 unità, ai quali si aggiungono i circa 300 interinali. Quindi c'è la capacità e la necessità di andare a colmare e a esaurire quella graduatoria.